Qui ci troviamo per un attimo di dare la parte dell'infermio dello Stato per aiutare le donne in fudera, diritti e salute. Sì, è un ottimo intervento di prevenzione quello che l'infermio dello Stato in collaborazione da molte associazioni mette in campo con Freccianosa per informare le donne su tantissime possibilità di prevenzione che ci sono anche nei nostri paesi, dagli screening, alla vaccinazione per il coronavirus. Insomma, quello che manca molte volte è proprio la conoscenza virtuale dei servizi che il sistema sanitario offre in lungo e largo delle regioni italiane. E' evidente che questa attività di prevenzione diffusa anche sul treno mi sembra un'iniziativa molto efficace perché gratuitamente su questo treno ci saranno operatori volontari che daranno tutte le informazioni su che farsi alla salute della donna e credo che guadagnerà ulteriori possibilità e opportunità con questa bellissima iniziativa. Io la ringrazio di questa iniziativa e complimenti. Grazie. Grazie.